Grazie 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 Di rivalità sportiva Grazie Di lì Diccio una cosa Ho fatto i carichi Non ho fatto una scena Ma oggi vieni pagati No Ma riprendi a fare Noi quest'anno Dobbiamo fare Una squadra di soli uomini E con pochi di uomini Non posso solo pensare a te Perché adesso non parlavamo almeno 100 mila euro in cui parliamo, però Andrei, io vi rite un uomo, non un uomo in merda. No, no, facciamo una cosa, tu vai verso il giù.